c'è l'ostello, andiamo a mangere un po' di ragù di tasso andate e morite con onore we are the Panzer Elite, born to compete, never retreat he's on esplosso charge 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 Grazie. Perfetto, non c'è nulla di pronto. All'attacco. Aspetto che si ricarica la cortina fumogena almeno. Quella a tre. È un po' pochino per poter fare danni. Oh, what do you do? Come here. Man day now. E certificate a catt grade. It must be so quiet. Quanti? Proprio i soldati più sfigati della storia Perché col mortaio non uccido mai niente Ti giuro Non ci ho mai ucciso un figo secco Che schifo Maletto of friends di Malca Hey Duke Oh I'm sorry about that Duke Curse of Cadorna Hope you You'll be well soon Are you a fever? Ow Cazzo rollo Shit Are you kidding me? Che sta arrivando? Che l'abbiamo visto? Charge Charge Grazie. E io sto costruendo il nostro invece. Sulla destra è quello più vicino. Va bene che stiamo avanzando anche a sinistra da quello che vedo. Abbiamo sfondato bene. Vedi cosa fa la fumogena. Come facilita il lavoro. Ma io parlo più oltre per quelli in live. Sì ragazzi vi faccio capire che. Chi non sa giocare all'ufficiale non usa mai queste. Che già con una sola linea di fumogena. Praticamente abbiamo costruito tutte e due gli avamposti. E le loro difese non sono servite un cazzo. Ah sono senza munizioni. Non è interessante. Ah cazzo vabbè in teoria ce l'ho io adesso. Adesso posso lanciare io il filare di... Di smoke. Perfetto. Devo raggiungere il tavolino però. Io ho testa e bombe rompono i coglioni. Allora. Intanto. Una bella cortina fumogena. Dopodiché. Una bella smitragliata. E' un affascinante bombardamento. C'è la carica. Ok. Ragazzi. C'è la fumogena. andata e ammazzata di tutti vici cadorna was and forever will be remembered as a fucking idiot a forever disgrace of a man who put the shame on the italian soldier due to his incompetence ow e sicuramente ti posso dire che di sopra è pieno di stronzi chiamato la carica siamo tutti in cima e scopo Grazie a tutti. Comunque va detto doppio ufficiale, abbiamo rotto il culo tipo a stelle e strisce, non hanno capito niente. Comunque li abbiamo massacrati, da. No, no Duke, no, I don't put English because technically this is an Italian stream, not an English one, but I can speak English, even if it's garbage my English. Allora, miglior punteggio totale, miglior punteggio ufficiale, maggior numero di uccisioni consecutive, maggior numero di punteggio supporto, maggior numero di uccisioni corpo a corpo. Che cazzo hanno fatto i nostri soldati, da. Già bello? Grazie. 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 Grazie.